Ciao ragazzi, sono Brandi 1107 e oggi inseriamo una SURVIVAIVA! Sì ragazzi, inseriamo una SURVIVAIVAVAL! Ehm... Che c'è, inseriamo una SURVIVAIVAVAL? Allora, come la chiamiamo? Perché non SURVIVAIVA, chiamiamola... MON... Ah, scelta... MON... Poi è attaccato A... A... S... Dov'è la SURVIVA? A... A... Ecco, il nome è inventato da me... Sopravvivenza, facile istruzione... Allora... Per ora mettiamo i privilegi, poi li levaremo... Crea un nuovo mondo... Scusate se sentirete la mentele, oppure la... VECCIA VISUALIZZAZIONE DEL... Canale... Però... Ehm... Ragazzi... Sì... Come vi ho detto, mia zia si è presa la scrivania perché è un avvocato... E deve lavorare... Perciò io dovrò fare il video... Così... Fino a quando mia zia non finirà! Allora... Credo che così vediate bene... Lo scuro... C'è la collocina... C'è la collocina... La struttura di... L'aria aperta... Vabbè... NICO 2016 è stata a California Scusa... What the fuck... OK... Stiamo in una survival, e già iniziamo con una bella esuletta, quanto è veloce, scusa ma sotto che ci sta? Iniziamo bene! No, muore, 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 strega, strega, falo per me, strega. A ver, questa strega mi muore la mano. Ah, sì, sì, brutta quanto fa, ora me escapò, ora me escapò, 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 escapò. No, 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 ma ce la comemo, ce la comemo, ce la comemo, ce la comemo. No, dai, stupida. Ok, non c'avevo nulla, però non volevo morire. Mamma mia. Meno male che... Meglio che per ora stiamo da così Cioè stiamo nello stesso punto No basta Sono sempre forte So sempre a combattere io Non è che sono Ma io che male Scappa Scappa Non mi si grappa Mamma mia ragazze 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 Ok 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 Siamoci qui sopra un albero E iniziamo a spaccare legna Facciamo subito una spada e la uccidiamo Paletto di legno Come i vampiri Mamma mia queste canzoni dei bambini Fatto Ce ne sono precisi Scusate se mi iniziate a sentire una canzoncina Ma mia sorella è comunque piccola Ce l'ho detto in tanti episodi Ora facciamo una spada Un piccone Meno male che ho avanti in inventario Sì però qui serve del cibo Sì però qui serve del cibo Pesce ci sta qua dentro E allora dove mangia C'è nulla da mangiare Nulla da mangiare Nulla Aspetto Ragazzi tappatevi le orecchie Devo chiedere una cosa Scusate per questo No no potete andare di là Perché io qua sto stanzare Facendo un video Capito Va bene Ragazzi ce l'ho chiesto Perché Stanzando a fare un video Se lo vediamo come E se lo vediamo Hai visto che quando ragione Ok andiamo in un laghetto No ci dovrebbero Ma non è male che c'ho Ma non è male che c'ho Mantieni in inventario Ora però c'ho tutti i cuori Quindi Potete andare anche in commenta Streghetta Eh come sei bellina a morire Non è vero C'ho quel nero enorme Che si vede In lontananza Forse sta in casa sua No Ragazzi Ne approfitto Ok la dobbiamo uccidere Con paletto Ragazzi è morta We are champion Meno male che c'ho ancora i 21 blocchi Che mi servono per salire qua sopra Non so come Però la cascata Non so il quando E il come Però la cascata È molto 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 veloce Aia Senti Allora io salgo Sopra la montagna Ragazzi Ecco E mi faccio Una specie di scaletta E là ci facciamo la nostra casa E la discesa Sarà L'acqua Cioè noi ora saliamo Tipo Olle E olle Dai Dai Altanda I Successi Iscriviti Hé Lui ragazzi siccome che da sotto vi sembrava una bella isola perché non è tanto per le case provo ad espanderla con questa cobblestone ecco qua per fortuna non so dirlo un po' con la casa un po' col mondo e tipo noi per scendere faremo così e poi noi se vogliamo andiamo dalla casa della streghetta ragazzi vi è migliorato la visuale è andato bene quel calcio ora abbiamo anche un vasetto tranquillo ci potremmo mettere se si può fare il ciaspuglio di rosa andiamo a vedere se si può fare andiamo a vedere se si può fare il ciaspuglio di rosa sto in casa non è bello allora facciamocelo con non posso dirlo andiamoci a procurare un poco di legno oppure cobblestone è meglio cobblestone secondo me sì è meglio cobblestone molto più resistente non si incendia ma non ne dobbiamo prendere poca tanta ora mi starò zitto in questo minuto di minaggio questi secondi di minaggio perché voglio far sentire il rumore quando spacchiamo i blocchi vado eh non ho pensato a questo rumore ho pensato a quello dei blocchi vabbè ci abbiamo 20 blocchi credo che dovrebbero andare anche perché sta facendo notte e io con il posto aggiorno ci aggiorno? comunque la gamma al massimo così va anche benissimo cioè sembra un vero mondo scusate sempre se parlo così ma sapete che io ho il raffreddore cioè c'è avuto la fortuna del mondo ad avere la fortuna di trovare già un posto sommerso nel c'è allora morde cai morde il cacchio cavolo 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 spaccati ok e ok ragazzi andiamo a prenderci altra 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 coppa sto sono 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 tutto bagnato allora mi hanno detto mi hanno detto che hanno aggiunto la nuova versione 1.14 ma non è vero per il computer l'hanno appena aggiunta però sulla playstation no scrivete nei commenti se avete la playstation e se avete la 1.14 o la 1.13 addio piccole ce ne dovremo fare un altro saliamo a casa e facciamoci un altro piccolo legno dove c'è anche un po' stu nein nein spacchiamoci tutto l'albero leva di legna tra brian che vi spacca tutta e e voi dite vabbè perché quando spacchi la legna salti ovvio perché quando c'è un blocco in sopra tu salti 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 e ci arrivi vabbè così manca bene 7 28 assi di legna io dico ma ci sta un superpotere qua forse la strega la guardate perché saliamo vedete come siamo all'occhio ma mi hanno avuto la fortuna di prenderla ho detto non sono morto sino meno ci potremmo sfamare con cosa però perché non ci stanno animali ci dovrebbero stare animali forse forse perché la strega ovviamente ora mi faccio il piccone quello là in pietra non ho citato quanto lo direi però non tutti sì però ci servirebbe infatti passaggio ne ho perché bravo ok aspetta però adesso ci mettiamo prima il piccolo stavo dicendo ma io si faccia un bel piccone carboleo carboleo sì però mi serve faccio una cosa non è un cit però ragazzi allora relax così si rigenera tutto anche i cuori e poi ecco abbiamo i nostri primi due di carbone comunque sta venendo un poco bene questa survival no raga scrivete i commenti se volete il continuo che potremo anche aggiustare la casa che per ora è una cata vecchia però la potremo aggiustare se lasciate 40 like per questo episodio sì lo so sono un poco tanti per io che c'è un canale un poco corto pochi iscritti però ragazzi per me è importante quindi ragazzi se arriviamo a q a r a not a like io continuerò questa serie continuerò la serie con movizen non è uno youtuber per chi non l'ha visto l'altro video andatelo a vedere è un video dove faccio creazione video divertenti provano a ridere è tipo non è con quello là che laggava no ti stai sbagliando è con un'altra app che ragazzi quando ho visto quel video ho detto non lagga perciò dovrebbe andare per il mio canale allora mi sono scaricato l'app oh però è uscita bene in questo caso è piccolina si è corta piccolissima tremenda piccola però se noi ci preghiamo qua ecco così abbiamo risparmiato anche lo spazio andate a seguire Diego008 poi l'ho anche trollato in un video trollo solo game per invertere trollo Diego008 e vabbè ragazzi come primo episodio abbiamo finito siamo fatti una mini casetta comunque ragazzi spero che questo vi sia piaciuto lasciate 40 like ci vediamo in un prossimo video ciao ciao